Bella a tutti ragazzi, Corgasmi, che sono qui con un nuovo episodio dei Potential Transfer. Visto che siamo alla fine del calcio-mercato, mancano pochi giorni alla chiusura appunto del mercato, penso che questo sarà l'ultimo episodio che farò. Penso, poi dipenderà poi magari da dei risvolti incredibili degli ultimi giorni di mercato, quindi magari farò un episodio speciale, non lo so, si vedrà nei prossimi giorni. In ogni caso, anche oggi abbiamo tre giocatori importanti, tre giocatori che sono legati in qualche modo al campionato italiano. Direi di cominciare subito parlando di Torres, Fernando Torres del Chelsea. Giocatore che non ha trovato spazio negli ultimi anni, diciamo così, nel Chelsea. Deriva, viene da stagioni non proprio positive appunto con i Blues e quindi potrebbe andare via Torres, potrebbe andare al Milan. È la squadra che gli ha offerto già un triennale, ha 3 milioni e mezzo l'anno. Lui però chiede una buona uscita di qualche milione dal Chelsea, adesso si vedrà un po' come si risolverà la situazione. Questa sarebbe la sua carta di FIFA 15, adesso finalmente ho la grafica appunto con le carte nuove di FIFA 15, ringraziando il mio grafico SPAC, il link l'ho trovato in descrizione. Comunque sia, notiamo un downgrade ovviamente per quanto riguarda Torres, perché secondo me è necessario, visto che le ultime stagioni non sono state proprio al massimo da parte sua, quindi un downgrade è necessario. Però ho voluto rimettergli le quattro stelle abilità perché secondo me se le merita, lui ce le aveva sia in FIFA 13 che in FIFA 12. E quest'anno gliel'hanno tolte, però io penso che potrebbero essere rimesse queste stelle abilità. Il giocatore comunque, anche la Roma ha mostrato interesse negli ultimi giorni per Torres, quindi vedremo come proseguirà questa trattativa, come finirà, soprattutto perché la Roma vorrebbe, anzi il Chelsea vorrebbe comprare alla Roma a destro, e quindi poi Torres sarebbe il suo rimpiazzo, però comunque sia, si vedrà. Andiamo con il secondo giocatore, stiamo parlando di Alessio Cerci, perché abbiamo parlato spesso di Cerci in questo mercato, prima per quanto riguarda il Milan, poi poteva andare all'Atletico, invece adesso si parla di Cerci all'Arsenal. I tabloidi inglesi, alcuni tabloidi inglesi danno per quasi fatta questa operazione, c'è quasi la firma del giocatore all'Arsenal, Arsenal che ha perso Giroud e starà fuori per qualche mese, quindi ha bisogno di un rimpiazzo e Cerci. Dopo l'ingresso in Champions League, l'Arsenal ha messo da parte questo tesoretto che vorrebbe spendere per il giocatore del Torino. Questa sarebbe la sua carta in FIFA 15, io avevo già fatto la sua prediction, ma l'ho cambiata in questa, perché penso che sarà un 82, penso che sarà a T, e penso che le sue statistiche saranno più o meno queste, e non così alte come le avevo messe nell'altra prediction. In ogni caso si presenta come una carta devastante, secondo me devastante, che sarà utilizzata tantissimo come COC nella Premier League, nel caso dovesse uscire, ovviamente. Invece andiamo con il terzo e ultimo giocatore, e parliamo di Fernando, Fernando dello Shakhtar Donetsk. A dir la verità, ho seguito veramente poco lo Shakhtar, quindi non conosco benissimo il giocatore. So che comunque la Fiorentina è interessata al suo acquisto, anzi al prestito di questo giocatore, infatti si è quasi vicini a chiudere questa operazione, arriverebbe appunto in prestito, la Fiorentina vorrebbe un diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni, mentre lo Shakhtar vorrebbe un obbligo di riscatto a quella cifra. Questa sarebbe la sua carta in FIFA 15, a dir la verità, non conoscendo appunto bene il giocatore, non so come potrebbe aumentare o diminuire le varie stats, io mi sono ipotizzato un 77 di overall, con qualche statistica un po' aumentata, però non lo so, se voi lo conoscete meglio, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore, in ogni caso è molto giovane, quindi ha margini di miglioramento sicuramente, e la Fiorentina farebbe secondo me un buon colpo ad acquistarlo. Comunque ragazzi, anche per oggi l'episodio finisce qui, potrebbe essere l'ultimo episodio, come potrebbe anche non esserlo, appunto ripeto, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà al mercato, io spero in ogni caso che questa serie vi sia piaciuta, ma non finisce qui perché riprenderà a gennaio, con i potential transfer, appunto nel mercato invernale. Vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a 400 mi piace uscirà un nuovo video, e a scrivermi nei commenti qualche altro suggerimento, per un ipotetico ultimo episodio successivamente, e ovviamente iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come al solito in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!